Buongiorno, sono Roberto Pettirossi e sono il responsabile del servizio di prevenzione e protezione per le basi in Antartide Mario Zuccalistation e Dom C da settembre dell'anno scorso. Adesso io cerco di entrare un po' più in dettaglio, nello specifico, rispetto appunto al contesto della sicurezza in Antartide, dopo l'esatuente spiegazione di Maria Luisa da un punto di vista giuridico-amministrativo. Intanto chiariamo una cosa bene, cosa si intende per rischio? Rischio zero non esiste, quindi significa che ovviamente con questo non significa che uno non deve fare nulla, deve fare tutto il possibile per abbattere i rischi a cui uno è esposto, tenendo conto delle mansioni specifiche di ognuno. Come si è arrivato poi a questo concetto e all'emanazione poi ultima del DLGS 81-2008. Tutto nasce esattamente con la 626 del 1994, fra un brevissimo escursus, che è il decreto legislativo che ha attuato quelle che erano le direttive comunitarie. Noi in Italia alla fine è diventato operativo di fatto poi nel 96-97 e quindi qual è stato il salto di qualità e la differenza? Che precedentemente c'erano degli organi ispettivi che verificavano che uno avesse i macchinari a posto, che fosse tutto secondo la normativa antincendio e quant'altro. Con la 626 il datore di lavoro, cioè l'imprenditore, colui che ha la responsabilità di fatto di quello che appunto è la sua impresa, la sua azienda, deve fare lui da ispettore rispetto alla sua azienda, cioè deve analizzare cosa si fa nel suo interno, vedere ogni singolo reparto, ogni singola funzione rispetto ai lavoratori e quindi dalla 626 si è passati poi al DLGS 82 perché? Perché in particolare si è notato un aumento degli infortuni. Sentite ogni tanto queste statistiche annuali, tot, mortalità all'anno e quant'altro. Siamo a livello comunitario, l'Italia ovviamente deve attenersi a certe regole garantire una sicurezza nell'ambiente di lavoro così come negli altri paesi comunitari, perché un lavoratore deve essere tutelato nella stessa maniera. Pertanto a fronte di questo è stata data a delega al governo di legiferare in materia, come vi ha già spiegato in maniera appunto chiara Maria Luisa e quindi di fatto poi con l'ultimo aggiornamento dal 20 agosto 2009, già era dal 15 maggio 2008 e con appunto un aggiornamento dal 20 agosto 2009, è in vigore questo appunto il decreto 81-2008. Che cosa fa questo decreto 81-2008 rispetto a quello di prima, al 626? Racchiude appunto tutti quelli che erano vari decreti e DPR a sé stanti in un unico testo normativo, che facilita molto ovviamente chi deve operare in materia, lo deve conoscere bene, ma lì c'è tutto, ci sono tutti i riferimenti con i vari titoli, è chiaro, da luoghi di lavoro ai DP, ai cantieri temprani o mobili che hanno appunto abrogato ma nel senso assorbito al suo interno quelli che erano i vari DPR e DLGS che qui sono barrati. Quelli che non sono stati barrati sono attualmente in vigore, è l'articolo 64 del 303 del 56, il genere del lavoro, il potere ispettivo e gli altri DPR, lavori in sotterraneo, cassioni aere complesse, impianti telefonici, fabbricazione e uso di espositi, che ancora sono in vigore quelli, per dovere di informazione questi sono ancora a sé stanti. Le definizioni le avete già sentite, scorriamo velocemente, differenza tra pericolo e rischio, il pericolo è una cosa intrinseca, una sostanza che ha una situazione, una bottiglia d'acido ha un pericolo insido in sé perché l'acido è appunto corrosivo, se inalato può dare problemi e quindi è pericoloso, o che sia qui o che sia messo chissà dove, quando è che si assume un rischio? Quando io apro la boccetta assumo un rischio, quindi devo conoscere cosa c'è e con cosa vado a operare. Una differenza sostanziale nell'ambito sicurezza, si divide in due branche, qui ci viene in aiuto la lingua inglese, security e safety, io vi parlo della safety che è nei luoghi di lavoro, security tipicamente sono i controlli che vengono fatti dalla vigilanza e quant'altro, quindi nel mio caso è la safety. valutazione di tutti i rischi, detto così, sembra una cosa esorbitante, in realtà tutti i rischi relativi ovviamente all'attività specifica, quindi bisogna tener conto di tutto e le persone che vanno a operare devono essere informate, come ha fatto Maria Luisa, formate come stiamo facendo adesso, addestrate a quello che fate nel pomeriggio, proprio a livello pratico, questo è un obbligo del datore di lavoro, che se non lo facesse è sanzionato. C'è il programma nazionale di cercantarti e via dicendo, però il datore di lavoro deve essere una persona fisica, perché l'81, come vi ha detto Maria Luisa, prevede l'arresto e l'arresto è previsto solo verso una persona fisica, non a un'entità astratta, quindi possiamo parlare di tutto, però nel nostro caso specifico alla fine tutto confluisce in una persona che è nel caso specifico dell'ingegner Cincotti, che ha questa responsabilità, nel momento in cui voi partecipate all'espezione di Antartida siete in carico, come dato di lavoro, all'ingegner Cincotti. Salute non è solo appunto benessere fisico, ma anche mentale, sociale. Prevenzione e protezione è prettamente preventivo, che si intende, che io quindi devo analizzare prima, quindi un esempio diciamo molto semplice di prevenzione, per esempio nell'uso di un'automobile come faccio io prevenzione, secondo voi, ah poi fate domande oppure interrompetemi quando volete, non c'è problema. Come faccio prevenzione? La faccio controllando bene tutte le funzionalità della macchina stessa, cambiare i freni quando è necessario, la manutenzione e via dicendo. Quando c'è ovviamente, però non è che io con questo ho escluso il fatto che possa avvenire un incidente, per cui devo prevedere anche una protezione dell'autista e di chi è nella macchina e da un po' di anni a questa parte si sono appunto ben trovati sistemi di protezione molto efficaci, per cui c'è oltre alle centri di sicurezza l'airbag, la macchina sono fatta per assorbire energia e quindi riportare meno sulla persona la decelerazione e quant'altro. Sorveglianza sanitaria, tenuto conto delle vostre specifiche emozioni, ha l'obbligo di farvi sorveglianza sanitaria, avete fatto tutti la visita all'IML, l'Istituto di Medicina Regale, perché è un obbligo del lavoro, dovete essere abili a fare questo lavoro, tenuto conto del luogo dove si va, che è un luogo comunque che merita un'attenzione nei confronti delle persone specifiche. Questo già ne abbiamo parlato. Unità produttiva, lo acceniamo perché è così come è suddiviso l'agenzia Enea, in vari centri, ogni centro è un'unità produttiva perché ha una sua specifica ovviamente produzione di beni, erogazioni di servizi e autonomia finanziaria e tecnico funzionale. Ripeto un attimo anche perché il datore di lavoro quindi è colui che ha il titolare dei poteri decisionali e di spesa. Allora, il datore di lavoro e il dirigente per la sicurezza stanno di fatto sullo stesso livello. L'unione di lavoro che la differenzia è, che non è da poco ovviamente, che il datore di lavoro si assume la responsabilità dei documenti di relazione di tutti i rischi, cosa che noi abbiamo fatto e emanato come revisione ultima a fine luglio scorso, sia per mezzetersi sia per promessi. Operativamente siamo noi del servizio di prevenzione di relazioni che lo facciamo, ma è quello che se ne fa carico. Perché è indelegabile la nomina del RSP nella parte speciale di sottoscritto. Perché siccome ha pagato le conseguenze che hai dato il lavoro, la legge dice guarda, questa cosa tu non la puoi delegare e scaricare su qualcun altro il fatto che è stata un'unità di una persona che forse era o meno comprenente. Aspetta a te, quindi quello che fai poi, ne vai dire le conseguenze. Per tutto il resto hanno la stessa valenza, dirigente per la sicurezza e da vero, perché anche il dirigente per la sicurezza ha comunque una sua quota parte di gestione di spesa. attuando di fatto le direttive. Mentre appunto il preposto è la persona che sorveglia. Allora ecco, per un attimino completare la questione. Nel momento in cui non è individuato un preposto, però come avete visto l'articolo 299 prevede che se non sono individuati i datori del lavoro, dirigente per la sicurezza, è preposto comunque, comunque verrà fatto poi nel caso in cui si rende necessario da parte di chi appunto ha il potere ispettivo. Come? Semplice. Nel caso del preposto è colui che in un gruppo di persone da due a più dà le direttive di cosa si deve fare. Quello è il preposto. che normalmente coincide con la persona più esperta. Ma se così non fosse, quando io arrivo la mattina e mi viene detto fai queste cose in questo modo eccetera, quella persona è il preposto, anche se non è ufficialmente individuato. Ma lo è di fatto. Il datore di lavoro è quello che alla fine paga. Quindi voglio dire, si individua in maniera abbastanza chiara. Quindi è inutile dire, ma io no, questa responsabilità non completa me. Dipende di fatto da come uno opera in merito. Lavoratore. Ecco, chiariamo pure questa cosa. In particolare con la 106 del 2009 è stato chiarito in maniera chiara, in evocabile, scusate il gioco di parole, chi è il lavoratore. Come vedete, con o senza retribuzione basta che una persona fa parte di un'organizzazione lavorativa e entra a farne parte, è a tutti gli effetti equiparato al lavoratore come chi è a tempo indeterminato, determinata, signor di ricerca e quant'altro. Perché entra nel contesto organizzativo. Perché la sicurezza è trasversale, riguarda appunto tutti. Anche se le responsabilità ovviamente poi sono rispetto a come uno è inserito nell'organigramma dell'azienda stessa. Tenuto conto della sua formazione, specificità, eccetera. Il servizio e i responsabili sono la parte operativa del datore di lavoro. Il numero in maniera congrua rispetto ovviamente alla complessità dell'azienda e delle cose da fare. Qui appunto gli addetti hanno appunto una formazione specifica, il medico competente tipicamente è un medico appunto del lavoro. Per dovere d'ufficio, vi dico solo questo esempio, c'è un'altra figura che si sente parlare di medico autorizzato, è colui che si occupa nel caso specifico, in caso uno fosse esposto a radiazioni ionizzanti. si chiama medico autorizzato. Per tutte le altre cose, medico competente. L'RLS, già vi è stato detto. Allora, qui è riportata la tabella che scaturisce dalla valutazione dei rischi che sono stati fatti sia per MZS che per DOMS. Non compare il discorso relativo ai volieri perché è una cosa molto specifica a sé stante. Quindi come vedete, clima severo, siete tutti esposti ovviamente a una situazione specifica particolare. L'incendio e le varie zone, carburante, matitoni, distributore carburante, edifici, gestione emergenze. Perché ci sono quelle varie appunto situazioni. Perché ovviamente ci sono quantità di carburante e operatività differenti. D'accordo? Tra chi è addetto a operare con i carburanti a chi non lo è. Gestione delle emergenze, come vedete, è riportato, ma non è che... e poi vi faccio vedere come vengono fuori questi numeri. Perché è comunque un allegato a sé stante dove ci sono le procedure da seguire, le persone di riferimento. Sappiate ad ogni modo che per quanto riguarda le situazioni in Antartide è la sala operativa il fulcro dell'emergenza. Perché tramite contatti radio è quella che raccoglie tutte le situazioni che sono presenti. Un'altra cosa importante. Qualunque situazione voi notate, che sono i cosiddetti mancati incidenti, dovete avvisare immediatamente il capo spedizione o un addetto alla sicurezza o il sottoscritto se è presente, perché quelli sono fondamentali e ci servono a noi per vedere come è avvenuto questo eventuale incidente e operare in maniera tale che non si intervenga dopo che è avvenuto un fatto increscioso. Cadute dall'alto, come vi ha detto prima Maria Luisa, alcuni di voi devono andare a fare manutenzioni e operazioni in tralicci, quindi devono avere non solo la formazione ma un addestramento specifico in merito. Elettrico, dagli addetti ai lavori a chi opera comunque in base. Macchine, attrezzature e strumentazione sanitaria, come sapete comunque in base c'è un'officina, ci sono delle macchine in movimento terra, ci sono degli automezzi e bisogna tenere conto e appunto valutare i rischi a cui è esposto. Rischio chimico si utilizza un algoritmo che è Archimede, dove a fronte dei dati di input che vi vengono chiesti a chi opera in merito, cioè tipo di agente utilizzato, quantità e tempo di utilizzo, si immettono questi dati e si ha una risposta del potenziale rischio a cui uno è esposto e si ovvia dicendo questo si può lavorare sotto cappa chimica con aspirazione, con occhiali protezione, camice, guanti, eccetera, eccetera. Persone tenute a lavorare da sole sono tipicamente quelli che operano con le macchine in movimento terra che essendo appunto impegnati, specialmente nel primo periodo, a smuovere neve oppure spostare o genti pesanti e ingombranti necessitano appunto di un'attenzione specifica, hanno una radio con auricolare oppure con un ricetrasmittente prossimo qua appunto all'orecchio ma in realtà deve essere avvisati in tutte le situazioni che si possono creare, bisogna tenere conto. Movimento manuale carichi, minimo che farete è il borsone che avete dietro, per cui ci sono gli occasionali e ci sono gli addetti tipicamente i magazzinieri. Per abbattere questo rischio ovviamente si fa uso di sistemi meccanici come appunto i traspallet e oppure appunto sollevarli tramite dei sistemi che permettono di spostare questi pesi avendo dei ganci e delle carruole. Videoterminali è tipicamente dovuto a tutti, però videoterminale per l'81 nello specifico si intende colui che usa il videoterminale almeno per 20 ore settimanali, quindi se io utilizzo il videoterminale, ovviamente stando in Antartida è anche 5-6 ore e anche di più, poi non lo riutilizzo per tutto il resto non è che io sono esposto al videoterminale, perché questo cosa significa? Che nel tempo vuol dire che io con quella postura, quella posizione posso avere dei danni, per cui il medico mi sorveglia e attua tutte quelle disposizioni necessarie dalla visita oftalmologica a quella appunto posturale. Lavoro nautico è in fase di aggiornamento e riguarda in particolare quando c'è presente anche la nave, non è il caso di questa campagna qua e ha ovviamente una sua trattazione molto specifica che riguarda in primis la verifica delle imbarcazioni che abbiano tutti i requisiti e del personale che deve operare e che deve conoscere come muoversi ovviamente. Rumore, vengono fatte ovviamente le fonometrie, in base alle fonometrie quindi ai livelli, livello di attenzione da 80, 85, 87, DBA per A si intende che è una curva a cui vengono associati i decibel che io misuro con lo strumento che tiene conto di come l'orecchio percepisce il rumore, quindi tipicamente intorno al kHz è il punto come frequenza dove siamo più sensibili. E quindi tenuto conto dell'esposizione e tenuto conto dei tempi ovviamente in cui io sono in presenza di questo rumore, il dottorio di lavoro opera in che maniera? Fornendo sicuramente delle cuffie di protezione al rumore, formandovi e informandovi anche sulla pericolosità intrinseca dovuta all'esposizione a questo agente fisico. Immersione subacquee hanno una cosa appunto a sé stante e è stata valutata, poi c'è rischio biologico, tipicamente ci sono i logistici che operano nell'impianto di depurazione che in maniera specifica possono essere esposti appunto ad agenti biologici. Vibrazioni le abbiamo iniziato però di fatto non c'è un'esposizione alle vibrazioni con i limiti così come dall'81 perché i tempi sono relativamente brevi e perché comunque i macchinari riescono specialmente quelle di ultima generazione ad assorbire le vibrazioni ovviamente del macchino stesso e non indurre un problema all'operatore. Comunque vanno tenute sotto controllo, questo dipende sempre dal tipo di macchinario e dall'utilizzo. È ovvio che se io devo fare per un motivo specifico uno sbancamento e quindi vado ad usare il martello pneumatico in quel caso merita un'attenzione chiara e dettagliata. Campi remoti, lo stesso che partecipa ai campi remoti deve avere, ci sono delle procedure, ci sono dei briefing da fare, viene individuato come ha detto appunto il preposto, colui che sa come si deve muovere, che quando gli viene detto della sola operativa per situazioni meteo dopo tot tempo è previsto che arrivi, vento catabatico dovete rientrare, non è che lì avviene un parapiglia, corri e c'è, no, ma il preposto del campo remoto che normalmente se c'è è una guida alpina decide lui come e in che maniera effettuare questo rientro, se è il caso o meno, perché ovviamente vanno valutate tutta una serie di situazioni che non devono peggiorare ovviamente ciò che può avvenire e essere. Allora, come sono venuti fuori quei numeri che avete visto? Non è ovviamente un gioco di dati, ma bensì scaturisce da questi criteri che sono le ex guida e gli spessi, non esiste un sistema inequivocabile per la votazione del rischio che è dato da P ovviamente per D, dal danno ricevuto e dalla probabilità che possa avvenire un rischio, è ovvio che si agisce prima di tutto su un fatto preventivo, abbattere la probabilità, nel cui inviene appunto su un fatto di protezione, tenuto conto del danno che viene regato. Questi sono i criteri e questo è per la votazione del danno, da cui ovviamente scaturisce poi con questa matrice come serve al dato di lavoro per sapere come deve intervenire, tenuto conto, quindi le priorità di intervento. Perché? Perché chiaramente io mi devo organizzare all'interno delle mie aziende, tenuto conto anche delle risorse che ho a disposizione, devo andare a intervenire nelle situazioni ovviamente a maggior rischio. La cosa fondamentale comunque è sapere cosa ho di fronte, sicurezza, sinecura, senza paura, che significa che io so a cosa vado incontro. Già questo ovviamente rendendomi appunto partecipe e cosciente abbatte di molto l'eventualità che possa avvenire un incidente. Il problema è quando io non conosco e non so a cosa vado incontro, quindi il senso di paura uno ce l'ha quando si trova in una situazione che non sa cosa c'è, la classica pura del buio è dovuta al fatto che io essendo buio non vedo nulla, non so che cosa ci possa essere, cosa ci sia. Questo l'ho riportato perché appunto è la metodologia per la valutazione appunto dei rischi di aumentazione manuale carichi, noi ci troviamo tipicamente in questa fascia qua, tenete conto che il vostro impegno è relativo, ovviamente un'esposizione del genere è dovuta a chi fa quel lavoro per vent'anni, per trent'anni, chiaro. Comunque va valutato chiaramente, perché si cerca sempre, lo scopo è quello di ridurre sempre al minimo l'eventualità che avvenga un danno al lavoratore, questo per un fatto sia etico sia di responsabilità propria di chi gestisce i lavoratori. e scaturisce dal fatto ovviamente che poi questo comporterebbe al sistema sanitario nazionale un impegno non indifferente, quindi bisogna agire prima. Ho riportato qua come noi facciamo per avere i dati di input, quindi la presenza dei pericoli quali sono, al fine di fare la valutazione dei rischi, scheda posto di lavoro e protezione sanitaria o scheda di protezione lavorativa, che dovete avere tutti. Perché? Allora, tanto quello che diciamo qua e che ha detto Mero Lisa riguardo all'81 vale su tutto il territorio nazionale e tutti i luoghi come avete sentito che sono appunto come territorio nazionale italiano, così come le basi italiane in Antartide. Per cui tutti dovete avere questa cosa qua, dove ci sono, a parte appunto l'anagrafica vostra, la descrizione delle attività, poi sono elencati appunto la caratterizzazione dei rischi sul lago di lavoro, quindi se utilizzate i miei agenti chimici che siano in alcuni casi canceroceni, con le vecchie frasi di rischio R45, R46, R49 e H340. Perché? Perché a fronte di queste informazioni qua, poi io so cosa devo fare, in che modo, in che maniera e se necessario, come normalmente si fanno dei sopralluoghi, si vede anche nel contesto generale dell'ambiente di lavoro per valutarne il rischio e ovviamente abbatterlo il più possibile. Così come agenti biologici, fisici, movimentazioni manuali carichi, attività videoterminali e oppure comportanti lavoro notturno. Poi se ci sono ovviamente altre situazioni vanno di fatto riportate. Di seguito come vedete ci sono tutte le varie figure professionali che hanno responsabilità in merito e in ultima quella del datore di lavoro, l'ultima dato che deve avere la visione di insieme. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza all'RLS è il vostro riferimento diretto, lui ha accesso a qualunque situazione, a qualunque cosa in merito alla sicurezza, quindi è il vostro portavoce. Dubbi, questioni di vario tipo, le potete ovviamente dire nel caso specifico al capo spedizione, capo base, al detto responsabile della sicurezza oppure all'RLS. Senza remore. Questo poi nello specifico entrando all'interno di quelle finestre che vi ho detto prima, come vedete lo stato fisico dell'eventuale agente, in questo caso chimico, il tempo di utilizzo e quant'altro necessario per sapere realmente e valutare il rischio e così per gli altri che abbiamo visto. Questo è il discorso dell'ammontazione manuale carichi. Qui forse l'avete già vista, ecco riporto un attimo, tanto per fare un discorso d'insieme, la base MZS, gli impianti, tipicamente appunto ci sono, c'è l'inceneritore, il depuratore, c'è anche il desalinizzatore, gruppi elettrogeni, poi appunto container magazzini dove ci sono appunto tutta una serie di container dove sono all'interno materiali, attrezzature che servono appunto per chi deve fare vari tipi di attività, qui sono appunto pinguinatti di foresterie, dove vengono alloggiati anche chi transita, perché MZS è anche di fatto un aeroporto, perché serve anche ad altri che hanno basi in Antartic, tipicamente i francesi, i coreani, gli americani, è un punto ovviamente di appoggio e di servizio anche per volieri di altri, ovviamente per altre basi. Corpo principale, questa appunto è la zona dormitorio, qui è la zona uffici sotto, ci sono i vari laboratori, questi sono i due hangar, qui ci sono nello specifico i mezzi antincendio, come vi ha detto appunto Maria Luisa, viene creata e vengono nominata la squadra di antincendio che fanno ogni anno presso Montelibretti, Vigili del Fuoco, un corso specifico antincendio a cui io parteciperò proprio quest'anno a metà settembre. L'helipad, come già vi hanno detto, zona appunto che deve essere appunto ben conosciuta, attenzione quando operano appunto gli elicotteri, e lungo questa strada, a circa 500-600 metri, ci sono questi qui chiamati matitoni, contenendo circa 600 metri cubi, che contengono il getta 1, carburante che è fondamentale appunto per la vita della base. E qua giù appunto c'è la zona del porticciolo. Questa invece è una foto di Tom C, è un pochettino datata, perché tenuto conto qua adesso ci sono tutta una serie di container, viveri e quant'altro, però questo è, questi sono i due cilindri corpo base, dove c'è la zona dormitorio e l'altra zona con laboratori, mensa e altre attività. Qui appunto c'è la zona gruppi elettrogeni, questo è il summer camp, intende, cioè che è stato utilizzato nello specifico, prima che fossero costruiti i due cilindri, della base. E come sapete si trova a circa 3.300 metri d'altitudine sul plato antartico. Questo, tanto per rilogare, ecco qua, questa è la base MZS, questa è Concordia, questa è la zona Polo Sud e quindi più o meno dove ci troviamo. Ecco, io con questo diciamo ho concluso questa presentazione. Sappiate che qualunque vostro dubbio, oppure di qualunque tipo e di genere, nello specifico appunto sicurezza, ma non solo, potete scrivere a roberto.pettirossi.chiocciola.enea.it Grazie.